La trama di La Promessa si fa sempre più avvincente e drammatica, con eventi che lasceranno gli spettatori senza parole. Preparatevi, perché nelle prossime puntate spagnole, in onda su Canale 5, si verificherà un colpo di scena che cambierà radicalmente le vite dei protagonisti. Ximena, una delle figure centrali della Promessa, si trova ad affrontare una crisi insostenibile dopo essere stata smascherata per la sua finta gravidanza, un inganno che ha portato avanti per mesi senza il consenso del marito Manuel. Sola e senza il sostegno di suo padre, la giovane donna precipita in una spirale di disperazione che la porterà a prendere una decisione tragica e irreversibile. Sopraffatta dalla vergogna e dal rimorso per le sue azioni, Ximena decide di togliere la vita in un gesto estremo che sconvolgerà tutti coloro che la conoscono. Questo suicidio avrà ripercussioni devastanti su Manuel, il marito, che si sentirà in colpa per non aver capito il dolore che Ximena stava attraversando. La notizia della morte di Ximena si diffonderà rapidamente, gettando ombre sulla tenuta della promessa e sui suoi abitanti. Manuel, devastato dal dolore e dal senso di colpa, dovrà affrontare il peso di aver perso sua moglie a causa della sua incapacità di vedere i segnali di allarme. La tragica fine di Ximena lascerà un segno indelebile su tutti coloro che sono stati testimoni della sua discesa negli abissi della disperazione. La sua popera si tingerà di tinte fosche, esplorando le conseguenze emotive di un atto così estremo e le ferite che lascerà nei cuori di coloro che l'hanno amata. La tensione si intensifica in un crescendo di emozioni e rivelazioni, quando Abel, un medico e fidato amico di Manuel, decide di rompere il silenzio e rivelare una verità devastante. Ximena non è mai stata incinta. Questa confessione non è solo un semplice annuncio, ma l'innesco di una catena di eventi che cambierà per sempre le vite di tutti i coinvolti. Manuel, già tormentato da dubbi e sospetti, si trova ora di fronte a una realtà che non avrebbe mai potuto immaginare. Furioso e tradito, Manuel decide di affrontare Ximena, il suo cuore in tumulto e la mente in preda a una tempesta di emozioni. La scena è carica di tensione, ogni parola pesante come un macigno, mentre le verità nascoste emergono con forza. Perché mi hai mentito? È solo una delle domande che rimbombano tra le pareti della loro casa, un luogo che ora sembra estraneo e pieno di ombre. Ximena, da parte sua, si trova a dover difendere un inganno che ha costruito con cura, ma che ora sta crollando come un castello di carte. La sua determinazione a mantenere il segreto si scontra con la realtà e il confronto con Manuel diventa un momento cruciale, un punto di non ritorno. Le emozioni esplodono e la coppia si trova a un bivio. Continuare a lottare per un matrimonio basato su menzogne o affrontare la verità e le sue conseguenze. In questo drammatico confronto le lacrime si mescolano alla rabbia e la fragilità dei legami umani emerge in tutta la sua complessità. Manuel, con il cuore spezzato, dichiara la sua intenzione di porre fine al matrimonio, mentre Ximena cerca disperatamente di giustificare le sue azioni. Ma le parole, una volta pronunciate, non possono essere ritirate e il destino della coppia sembra segnato. Questo momento di confronto non è solo una semplice discussione, è un battesimo di fuoco per entrambi, un'opportunità per riflettere su ciò che è realmente importante. La loro storia, intrisa di passione e inganni, si avvia verso un epilogo incerto, dove l'amore e la verità si scontrano in un dramma avvincente e indimenticabile. La scelta finale di Manuel e Ximena non deciderà solo il loro futuro, ma anche quello di tutti coloro che li circondano, in un intreccio di destini che promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso. La notizia dell'inganno non colpirà solo Manuel, ma anche i genitori di Ximena. Suo padre, furioso e umiliato, non esiterà a esprimere il suo disprezzo nei confronti della figlia, accusandola di essere la vergogna della famiglia. Queste parole dure e spietate saranno un ulteriore colpo per Ximena, già in uno stato di fragilità emotiva. La mancanza di supporto da parte della sua famiglia la porterà a sentirsi completamente isolata, spingendola verso un gesto disperato. Le anticipazioni rivelano che Ximena si lancerà da una balaustra del palazzo, un gesto che segnerà la sua tragica fine. L'impatto sarà devastante e, dopo giorni di agonia, la giovane morirà. La sua morte lascerà un vuoto incolmabile nella vita di Manuel, che si ritroverà a fare i conti con il rimorso e la solitudine. La sua reazione sarà quella di isolarsi, rifiutando anche la presenza di Yana, un'altra donna che ha cercato di avvicinarsi a lui in questo momento difficile. Manuel si sentirà come se stesse espiano un peccato, portando il peso della sofferenza di Ximena. Ma com'è arrivata Ximena a questa situazione tragica? La sua finta gravidanza è stata un tentativo disperato di mantenere il marito al suo fianco. Con la paura di perderlo, ha inventato una storia di gravidanza difficile, sperando che questo potesse riavvicinarlo a lei. Abel, complice in questo inganno, ha contribuito a mantenere la finzione, ma alla fine la verità è venuta a galla, portando a conseguenze devastanti. La storia di Ximena si dipana come un dramma avvincente, una riflessione profonda sulle conseguenze devastanti delle bugie e della mancanza di comunicazione in una relazione. In un mondo dove la verità è spesso offuscata da segreti e omissioni, la vita di Ximena e Manuel diventa un esempio lampante di come le parole non dette possano scavare crepe incolmabili tra due persone che si amano. La tragica fine di Ximena non è solo un evento che segna un punto di non ritorno per Manuel, ma è anche un potente monito per tutti coloro che tendono a nascondere la verità, a costruire castelli di menzogne per proteggere se stessi o per evitare il conflitto. La loro storia è un viaggio attraverso le emozioni, dove ogni bugia raccontata da Ximena si trasforma in un peso sempre più gravoso fino a diventare insostenibile. Manuel, ignaro delle ombre che si addensano attorno a lui, vive in un'illusione che lo porta a credere che l'amore possa superare qualsiasi ostacolo. Ma la realtà si rivela ben diversa. Le omissioni creano un abisso, una distanza emotiva che nessun gesto d'amore può colmare. La fine di Ximena, quindi, diventa un catalizzatore per una trasformazione radicale nella vita di Manuel, spingendolo a confrontarsi con il dolore e la perdita, ma anche a riflettere sul valore della verità e del sostegno reciproco. Il messaggio di questa storia è chiaro e potente. La comunicazione aperta è fondamentale in ogni relazione. La verità, per quanto possa essere difficile da affrontare, è sempre preferibile alle menzogne, che alla fine portano solo a sofferenza e isolamento. Ximena e Manuel Chi insegnano che il coraggio di affrontare la verità, per quanto scomoda, è ciò che permette di costruire legami autentici e duraturi. La loro vicenda rimane impressa nella memoria, un richiamo a tutti noi a non sottovalutare il potere delle parole e l'importanza di una comunicazione sincera. Non perdetevi i prossimi episodi di La Promessa su Canale 5, dove le emozioni saranno alle stelle e ogni colpo di scena vi lascerà senza fiato. Rimanete con noi per scoprire come si svilupperanno le vite di questi personaggi e preparatevi a un viaggio attraverso il dramma, la passione e la redenzione.